Il primo intervento, almeno da quando abbiamo recuperato le competenze direttamente come regione per occuparci di queste progettazioni, di questi interventi. Abbiamo messo a disposizione circa un milione e mezzo in collaborazione con il comune, con la provincia, per questa realizzazione che migliora la congiunzione tra la 206 e la strada provinciale 21, ma soprattutto mette in sicurezza l'accesso ad un'area industriale molto importante e molto frequentata. Quindi per noi è importante la presenza della regione che dà risposte nei territori, a volte con opere anche di grande rilevanza e che richiedono interventi economici molto sostanziosi, a volte anche con cifre inferiori, anche se un milione e mezzo è comunque una cifra di tutto rispetto, che però sono altrettanto importanti per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza stradale. Questo è uno di quelli, vedo che gli interventi stanno andando avanti con il rispetto dei tempi, il cantiere mi sembra un cantiere molto dinamico, quindi esprimiamo una soddisfazione affinché questo intervento si concluda nei tempi previsti e quindi arriviamo a fine settembre-ottobre con i lavori completamente realizzati e con una risposta che in questi territori era attesa da tanto tempo.